bella partita atalanta complimenti all'atalanta che vince e convince ciao ragazzi ciao ragazzi allora 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 oh tienite in piedi allora parma atalanta ragazzi finisce secondo me con un risultato auspicabile non auspicabile scusate prevedibile cambio termine perché sbagliato ovvero 3 a 1 per l'atalanta che comunque diciamo che ha faticato abbastanza non è che è stata proprio tutta rose e fiori quindi io direi che alla fine vittoria meritata meritata perché l'atalanta ha giocato molto meglio scusate se guardo di qua stavo prendendo la suddetta partita cioè le statistiche più che altro così da parlare meglio allora ragazzi allora il parma ancora una volta rimonta vince in rimonta perché ragazzi il parma è una delle squadre che ha vinto più partite in rimonta ha vinto più partite in rimonta o una o una di quelle adesso non so di preciso questa speciale classifica come è fatta però so che l'hanno detto in telecronaca che l'atalanta è una delle squadre che vince più spesso di rimonta e anche oggi ha vinto di rimonta perché gervinio la apre all'ottavo minuto come al solito come poteva aprire la gervinio ovviamente con un contropiede in campo aperto che ovviamente porta il parma sull'una zero pareggia poi pasali cioè che prima si magna due gol due mica uno due se ne magna e poi segna il gol dell'una uno e qui finisce il primo tempo allora primo tempo abbastanza equilibrato no diciamo che anche nel primo tempo il parma l'atalanta aveva fatto molto meglio del parma però il parma comunque non è che stava a guardare insomma comunque qualche occasione se l'è anche creata però sostanzialmente l'atalanta aveva fatto molto meglio invece il secondo tempo ha senso unico secondo tempo in cui il parma non ha praticamente mai visto la porta se non in qualche occasione sporadica in cui collini ha fatto qualche quasi paperata insomma però il parma ha fatto pochissimo nel secondo tempo veramente molto poco e l'atalanta ha preso il sopravvento anche se in realtà poi l'atalanta ho detto ho ripetuto l'atalanta ancora un'altra volta l'atalanta poi ha segnato al 75esimo quindi non è che dice ha segnato subito e ha dominato cioè ha dominato sì il secondo tempo l'ha dominato secondo me però ha avuto difficoltà nel segnare l'atalanta raga è una squadra che crea tanto crea tantissimo ma concretizza poco anche oggi raga l'atalanta poteva far benissimo cioè si è magnata tipo 4-5 gol minimo minimo raga ma oggi l'atalanta raga ha fatto come al solito ha fatto una partita perfetta praticamente tralasciando il gol di gervinio praticamente oggi non ha non ha concesso quasi niente al parma però il problema dell'atalanta è che concretizza poco crea tantissimo raga l'atalanta gioca una meraviglia gioca palla a terra con scambi veloci 1-2 e quindi in porta ci arriva il problema è che poi sotto porta non segna non segna o meglio non è che non segna segna poco in relazione a quello che crea cioè oggi raga ha finito 3-1 se fosse finita per dire 5-6-1 cioè non ci sarebbe stato nulla da dire perché l'atalanta raga ha creato ed occasioni ma tante tante e anche colossali perché c'è sta castagna che si è mangiato un gol assurdo stava praticamente basta che non ha preso manco la porta stava tanto così di distanza non ha preso manco la porta e quello era potenzialmente il gol e i due gol mangiati da pasaliccio nel primo tempo e poi sicuramente qualcuno che adesso non mi ricordo però raga se ne è mangiato l'impossibile e poi l'ha chiusa al 94esimo quindi raga l'atalanta è una buona squadra però non concretizza quello che crea cioè crea tanto ma non concretizza adesso parla velocemente delle situazioni della classifica perché l'atalanta raga fa un grande balzo in avanti anche non solo attenzione non solo in ottica europa league anche in ottica champions league perché l'atalanta ha 48 punti il milan ha 51 e ha perso contro la sampdoria quindi l'atalanta recupera 3 punti sul milan e adesso ha meno 3 dal milan in europa league stabile cioè stabile adesso deve giocare ancora la roma con il napoli però insomma è più facile che la roma non faccia punti piuttosto cioè se vince la roma tanto di cappello insomma però l'atalanta fa un bel balzo in avanti il parma invece sta in quella in quel limbo che non dove non può andare né in europa né retrocedere quindi insomma sta un po lì il parma insomma gioca un po ecca la il parma gioca un po senza che così giocano per giocare perché insomma ormai stanno troppo lontani dalla zona etrocessione troppo lontani dalla zona europa quindi stanno là come genoa sassuolo oddio dall'udinesi in giù poi stanno abbastanza a rischio è però diciamo che dal sassuolo in su stanno anche abbastanza tranquilli anche perché il campionato è quasi finito lega ci mancano boh cioè non quasi finito al senso mancano non mancano troppe giornate niente rega allora tra poco ci sta ci saranno le tre partite del pomeriggio ovvero roma napoli fiorentina torino e frosinone spal probabilmente vedrò roma napoli però cercherò di tenermi aggiornato anche sulle altre partite ovviamente cercherò il più possibile ovviamente non sono un robot proverò stasera rega ci sarà interlazio prima pre dopo bologna sassuolo e niente rega io vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per seguirmi ogni volta per seguire tutti i miei video che carico ogni giorno ogni giorno ogni volta ci sono le partite lasciate tanti mi piace sotto questo video io vi invito a seguirmi anche su instagram ragazzi ditemi nei commenti anche cosa ne pensate di questa partita e noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video